Ok, buongiorno a tutti. Di nuovo Showtech Lampy, di nuovo nel menu. Perché? Che cosa facciamo questa volta? Questa volta vi faccio vedere un attimino dove si va per andare a caricare uno show, per cancellare uno show in generale. Ripetiamo sempre il discorso che la Lampy è molto semplice. Ha tantissime cose carine all'interno del suo menu, l'interfaccia utente è veramente amichevole. Quindi, menu, dove c'è la ghiera qua, cliccate dentro. Se magari si trova qui nel menu non vi preoccupate, ovviamente andate a cercare dove c'è scritto Manage Shows. In Manage Shows cosa possiamo fare? Prima di tutto possiamo cancellare uno show se vogliamo, caricare uno show, creare uno show, eccetera, eccetera. Proviamo a caricare lo show qua a Infinity. Quindi clicco sopra, ovviamente, quello che vado a fare con la Magic Wand è semplicemente azionare il menu con le sue varie opzioni. Quindi mi dà la possibilità di caricare un nuovo show, mi dà la possibilità di cancellare uno show, di aprire uno show. Quindi new show, di importare e di esportare anche uno show. Quindi vedete che il menu alla fine vi dà tante possibilità e sono tutte lì senza andare a cercare o stare lì a pensare dove sono tutte le cose. Quindi se io voglio caricare questo show, semplicemente dopo averlo selezionato come abbiamo fatto, che infatti è grigio, faccio Open Show. Ovviamente quello che mi chiede la macchina è, vuoi veramente aprire questo show? Perché chiuderà lo show dove vi trovate attualmente. Ovviamente sì, questo punto ha caricato il vostro show e da qui in poi voi avete la possibilità ovviamente di lavorare su quello che è lo spettacolo che state costruendo. Ovviamente io ho settato il plot, ricordiamoci sempre che la Lampi è due universi di MX, non espandibili. Ci sono varie versioni anche della Lampi che vi conviene andare a dare un occhio sul sito, perché questa che ho io qui in questo istante è la versione più piccolina, che in larghezza dovrebbe essere circa 50 cm, quindi figuratevi, mettete nello zainetto e andate a fare il lavoro che dovete andare a fare. Quindi ripeto, menu, dove c'è la ghiera, all'interno della ghiera andate a cercare Manager Shows e qui voi potete o caricare o cancellare o importare o esportare. Basta andare nella Magic Wand, secondo quello che fate ovviamente cambia il menu, perché se non selezionate nulla vedete che il menu vi presenta semplicemente due opzioni. Se io seleziono qualcosa e pigio la Magic Wand mi dà anche la possibilità di cancellare lo show dall'hard disk interno, però anche di importarlo, di esportarlo oppure di aprire lo show direttamente. Quindi anche per questa piccola parte avete visto quello che è Lampi, quello che c'è al suo interno. Divertitevi e buona giornata a tutti!